Buongiorno, buongiorno, buon sabato, ben ritrovati per questa rassegna stampa della vigilia di Natale. Oggi appunto è il 24 di dicembre e come sempre sfoglieremo i quotidiani, quelli che troviamo in edicola. Faremo un sorvolo sulle principali notizie e poi naturalmente ci faremo gli auguri. Però procediamo con ordine, guardiamo prima l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo. Allora, il santo del giorno, eccolo qua, sabato 24 di dicembre, santi antenati di Gesù. Il sole è sorto alle 7.40, sorgerà quindi fra qualche minuto, dopodiché tramonterà alle 16.36 per questa giornata così importante per molti di noi che prelude appunto al giorno di Natale. Veniamo alle previsioni del tempo, vediamo che tempo ci sarà nelle prossime 24 e 48 ore. Per questa vigilia il cielo sarà sereno, poco nuvoloso per il transito di lievi velature. Le precipitazioni sono date per assenti, le temperature in lieve aumento nei valori massimi e in lieve diminuzione nei valori minimi. Quindi c'è un differenziale, una forbice ancora più elevata di temperature, escursione termica ancora più elevata. Previsioni per domenica, il giorno di Natale, cielo sereno o poco nuvoloso con lievi velature. Anche qui nessuna precipitazione, senza variazioni di rilievo le temperature. Quindi rimarranno sui valori di queste ore. Per lunedì, 26, un altro giorno di festa. Vedete, sulla carta è tutto sereno, poco nuvoloso, con anche qui lievi velature. Però vedete, la simbologia è molto eloquente. C'è sole quasi pieno dappertutto, nessuna precipitazione. E anche qui le temperature saranno in lieve aumento. Bene, archiviato il tempo, si prospetta un fine settimana e quindi festività all'insegna del bel tempo per farci girare, per farci vedere tutte le attrattive che sono presenti nella provincia e che sono state studiate per questa festività natalizia. Allora, andiamo nei giornali. Vi porto nel Corriere Adriatico, perché il resto del calino questa mattina non era disponibile. Quindi guardiamo la pagina di apertura del Corriere Adriatico, quella che apre un po' tutto l'inserto dedicato a Pesaro e provincia. Si parla, insomma, con la fotonotizia di furti. Furti sfida agli imprenditori, la sicurezza, la sfida degli imprenditori, la sicurezza la paghiamo a noi. Raffica di colpi. I privati minacciano di fare da soli. Siamo ad Osimo, ma anche dalle nostre parti non è che va meglio. Abbiamo visto la raffica di furti che c'è stata anche i giorni scorsi ai danni di esercizi commerciali, distributori di benzina, tabaccai, insomma, presi di mira anche appunto gli appartamenti. Poi Marche Nordi, il budget via al percorso per Muraglia. Questo lo ritroveremo nelle pagine dedicate a Pesaro. Ma partiamo con la pagina di Fano, del Corriere Adriatico. Si parla dell'operazione immobiliare che, insomma, è stata sottoscritta, almeno nella lettera, di intenti ieri nella sala delle conferenze della Fondazione Carifano. Presenti, vedete, nella foto il presidente Tombari, il vescovo Monsignor Trasarti e il sindaco Massimo Seri, appunto, che stanno firmando, ponendo le loro firme sulla lettera di intenti. Ambe due, vedete, abbastanza sorridenti per questo accordo. Coinvolto in questa operazione appunto la Fondazione Carifano, coinvolto il Fondo Cives che rileverà la struttura di San Lazzaro e il Comune di Fano. Che cosa ne verrà da tutto questo? Ci saranno 80, un'ottantina, più o meno, di alloggi a sfondo sociale. Ci sarà una RSA, appunto, nella casa di riposo Don Paolo Tonucci, che passerà dai 50 ai 110 posti. E poi la Fondazione Carifano, che appunto detiene la proprietà di Don Paolo Tonucci, riverserà tutto quello che si potrà su questo nuovo impianto natatorio. Quindi ci sarà una nuova piscina a Fano con ben tre vasche. Quindi almeno questo è il progetto sulla carta. Quindi insomma un fine d'anno con buone notizie per quanto riguarda le infrastrutture fanesi. L'importo di questa operazione è di oltre 20 milioni di euro, quindi insomma anche un grosso impulso all'economia della città. Tutto questo partirà nel 2017 con tutti i tempi naturalmente relativi. Appunto il Natale, il Vescovo di Fano, Trasarti, dice relazioni imbarbarite, ritroviamo misura e valori. Questo è il suo messaggio per il Natale, per un Natale di pace. Trasarti parla di polis, chi alza i toni abbassa l'etica dei contenuti. Dopo vedremo anche il messaggio dell'Arcivescovo Monsignor Coccia di Pesaro. Rimanevo nelle pagine però del Criadiatico per quanto riguarda Fano. Un altro argomento di fine anno è quello dell'ospedale. Dopo vedremo anche perché, perché ieri c'è stata un'assemblea di chiusura di Marche Nord che ha fatto un po' il punto della situazione e si è toccato naturalmente inevitabilmente anche il tasto dell'ospedale. E se avete seguito il nostro telegiornale di ieri, l'intervista che ha rilasciato Ceriscioli, i nostri microfoni proprio ieri durante la conferenza, è stato molto chiaro. L'ospedale si farà a Muraglia. Chiaruccia era invece vincente. Qualcuno è stato ambiguo. Il sindaco è incalzato sull'ospedale unico a Muraglia. Ruggeri ora salvi il Santa Croce. Marta Ruggeri di Fano ha 5 stelle. E poi il ministro Poletti chiede scusa adesso anche alla città di Fano. La gaffa sui giovani tra i piedi, naturalmente, atto della consigliera Serra. Vedete il ministro Poletti al pesce azzurro durante le parole espresse alla pubblica Assise. Però questa affermazione che è riportata anche qui, perché il Paese non soffrirà ad averli più tra i piedi, l'ha rilasciata durante l'incontro con i giornalisti e quindi anche ai nostri microfoni. Polizia stradale, alzata di scudi contro l'accorpamento, doppio no della Sise Civica. La giunta scrive al ministro e Minardi al capo della polizia per far rimanere la polizia stradale a Fano. Andiamo nelle pagine della Val Cesano. Vediamo cosa succede. Siamo a San Lorenzo in campo. Corso musicale alla scuola media. Da 35 anni vanto di San Lorenzo. è stato celebrato l'anniversario con una targa. Diamo merito a chi ha fatto del bene. Vedete proprio nella foto il momento in cui è stata scoperta la targa di questa struttura. L'indirizzo pioneristico ha alimentato l'amore e la pratica di strumenti e canto nel solco di Tiberini. Questo dalla Val Cesano però ancora una notizia che riguarda la Val Cesano e ben 78 amministratori perché sono stati nominati i due commissari prefettizi perché decadono 78 amministratori. Questo perché è perché sono state approvate le due fusioni colli al Metauro e terre roveresche. Quindi insomma vanno commissariate e quindi prendono le redini di questi 78 comuni. appunto 78 amministratori le redini di quei comuni che sono stati accorpati. Vedete la firma del prefetto Luigi Pizzi e il funzionario Angeloni in piedi. E quindi insomma questo è il nuovo corso di questi comuni che dal primo di gennaio vedranno comparire la scritta nuova nei loro certificati. Per lo meno anagrafe e cimiteriali saranno i nuovi servizi con le nuove diciture. Andiamo a Pesaro per quanto riguarda appunto il Corriere Adriatico. Vediamo c'è cronaca, c'è cronaca nelle prime pagine, spaccio prima della campanella. Siamo in piazzetta Miciche che è adiacente al liceo Mammiani, al liceo classico Mammiani. Quindi in pieno centro e questa piazzetta verrà presto video sorvegliata per evitare che ci siano questi frangenti. Il caso è venuto alla ribalta per due ragazzini di origine extracomunitaria di 16-17 anni sorpresi giovedì prima della campanella delle 8 con dosi di marijuana. Quindi questa piazzetta che è un po' un punto di snodo, in quel punto arrivano le Corriere, i ragazzi sono in transito. Insomma è un momento in cui ci possono essere questi frangenti. Ancora nelle pagine di Pesaro c'è stata la delibera appunto del sindaco sull'accattonaggio molesto. Però i questuanti sfidano il sindaco, anche ieri in centro storico e nelle aree di sosta pullulavano di mendicanti e parcheggiatori abusivi e un venditore di pacottiglia. L'ordinanza non mi fa paura, non trovo lavoro e non ho alternative. Queste le sue considerazioni. Il provvedimento contro l'accattonaggio molesto verrà appunto rinnovato anche per tutto il 2017. Vediamo ancora le pagine che riguardano Pesaro. Dicevo l'arcivescovo Monsignor Coccia, anche lui ha tenuto a sottolineare quello che è il suo pensiero per quanto riguarda queste festività. Lavoro deve tutelare, il lavoro appunto deve tutelare la dignità, le persone non sono tecnologia. L'arcivescovo Coccia affronta per il Natale il tema dell'economia ma anche famiglia e politica direi abbastanza in linea i pensieri dei due vescovi, delle due città. Andiamo sempre a vedere come sempre facciamo anche le pagine che riguardano Senigallia che si prepara a vivere anche la città della sabbia dorata a questo periodo di festività però con un occhio agli sfollati del sisma, una festa con dedica, pranzo al Panzini con vescovo e sindaco in centro shopping insieme a Babbo Natale. Vedete insomma una bella slitta con tanti bambini, una nevicata penso finta, non reale e un Babbo Natale che insomma regala sorrisi e momenti di gioia ai bambini. Allora vi faccio vedere l'ultima pagina e quella appunto che vi dicevo della pubblica assemblea che c'è stata per Marche Nord dove ha tracciato il profilo di questo anno appena passato, il 2016 e si è parlato anche dei progetti per il 2017. Marche Nord competerà con la Romagna, mobilità passiva, investimenti e assunzioni, Ceriscioli traccia il bilancio e presenta il piano 2017. Ma mette anche un punto fermo su quello che è l'ospedale unico, l'anno prossimo con la progettazione comincerà il percorso per l'ospedale unico a Muraglia. Il budget assegnato dalla regione appunto all'azienda Marche Nord è di 13 milioni in più rispetto al 2014, sono 230 milioni di euro, quindi insomma 13 milioni in più di risorse da gestire sul territorio e sul settore dei servizi. Vedete qui nella foto raggruppati un po' tutti i nuovi primari e le nuove eccellenze che sono state incorporate in Marche Nord, 13 nuovi primari appunto fino ad ora nell'arco del 2016. Bene, questa era l'ultima notizia che vi facevo vedere, grazie per essere stati in nostra compagnia in questa rassegna stampa pre-natalizia. Natalizia oggi è vigilia, quindi sicuramente entriamo nelle vostre case mentre state facendo i preparativi per il pranzo, per gli ultimi acquisti, gli ultimi regali. Quindi insomma un caloroso augurio di buone feste, buon Natale anche da parte mia ma da parte di tutta Fanotv. Noi ci rivediamo il 27 mattina con occhio ai giornali e naturalmente per quanto riguarda l'informazione. Bene, questo è tutto, vi lascio le vostre cose, un saluto anche a quelli che ci seguono in replica. Grazie per essere stati con noi, buon Natale e passatelo meglio che potete in famiglia o con amici. Alla prossima! Grazie per essere stati con noi, buon Natale e passatelo meglio che potete in famiglia o con amici.